Quali sono le terminologie tecniche da conoscere nel TCG di Lorekana? Cosa staranno a significare e in che modo potranno agevolare un illuminario nel suo percorso alla ricerca dei Lore? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Da quando Lorekana ha iniziato a comparire sul canale molti sono stati gli illuminari a chiedermi spiegazioni su alcune terminologie utilizzate durante i vari contenuti pubblicati nelle settimane precedenti. 2x1, Lore Race, Inchiostrare, eccetera. Ebbene in questo video grazie al supporto di Andrea Cavallari del team Lorekana League Italia e dei signori di Fantasia Store andremo a trattare nel dettaglio ognuna di queste terminologie così da fornire ad ogni nuovo giocatore un dizionario pronto per essere consultato in qualsiasi momento della propria esperienza ludica. Prima di continuare se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i termini più utilizzati dagli illuminari nel TCG targato Disney. Andiamo a dargli un'occhiata. Il meta rappresenta l'ambiente competitivo corrente dei TCG composto dai mazzi e dalle strategie più popolari ed efficaci. La totalità dei mazzi giocati all'interno di una o più competizioni definisce il meta. Questi mazzi vengono poi suddivisi in base alla loro predominanza sugli altri dello stesso livello, comunemente detto tier. Nel panorama competitivo generalmente il tier 0 è il più alto mentre il tier 2 è il meno competitivo. Il meta rappresenta quindi mazzi più o meno popolari e lo strumento che ne permette una migliore lettura è il meta share. Il meta share è la suddivisione in percentuale dei mazzi presenti all'interno del meta e ci offre la possibilità di capire quali di questi sono più o meno presenti e giocati. In questo esempio di meta share, ricavato dal meta di un torneo composto da 24 giocatori, si nota immediatamente quali siano i mazzi più presenti ed è offerta una visione più specifica delle strategie e delle carte più giocate. Gli anti-meta sono quei mazzi costruiti in modo da avere un eccellente numero di risposte ai mazzi e strategie più presenti nel meta, rinunciando eventualmente ad una propria strategia solida o alla possibilità di avere più tipi di risposte anche contro mazzi meno presenti. Con il termine matchup si indica tutto ciò che riguarda lo scontro tra due determinati mazzi all'interno del meta. Le informazioni relative a tale partita possono prestarsi ad una previsione di vittoria e sconfitta tra due tipologie di mazzi. Ad esempio, Sapphire Steel Ramp ha il 45% di vittoria, mentre Ember Emerald Agro ha il 55% di vittoria. Il mazzo agro ha mediamente una migliore percentuale di vittoria nella totalità degli scontri contro il mazzo ramp e, più in generale, un buon matchup contro i mazzi che impiegano molti turni per costruire il loro piano di gioco. Il mirror match è semplicemente una partita in cui entrambi i giocatori giocano lo stesso mazzo. Il mulligan è il processo di ridistribuzione delle carte iniziali per ottenere una mano migliore all'inizio di una partita. Tale fase non è obbligatoria e in l'orcana non prevede un numero minimo o massimo di carte che devono essere rimescolate nel mazzo. Si scelgono le eventuali carte da rimescolare, le si piazza in fondo al mazzo e, in seguito, si pesca fino ad avere nuovamente sette carte in mano. Al termine di questi passaggi si mischia il mazzo. Si definisce invece keep l'azione di rinunciare al mulligan per tenere in blocco le carte della mano iniziale. Il termine early game indica la fase iniziale della partita, ovvero solitamente i primi tre turni, mentre mid game viene usato per identificare la fase intermedia della partita, dal turno 4 al 7. Late game, infine, indica la fase conclusiva della partita, dal turno 7 in poi. Inchiostrare è l'azione che i giocatori effettuano quando posizionano una carta all'interno del proprio calamaio. Mandare in avventura è l'azione che permette di guadagnare punti lore. Quando una carta viene rimossa dal campo di gioco, questa viene esiliata e dovrà essere sistemata nella pila degli scarti. Le carte che permettono di esiliare dei personaggi vengono comunemente definite rimozioni o removal. Si definisce Rushante un personaggio che ha l'abilità carica, ovvero che può sfidare nello stesso turno nel quale è stato giocato. Shift è sicuramente una delle abilità più particolari ed interessanti di Lorcana. Questa abilità ci consente di giocare personaggi relativamente costosi, applicandoli sopra ad una carta con lo stesso nome ad un costo ridotto. L'azione che compiamo quando andiamo a giocare una carta con Shift è comunemente definita shiftare. Ricordiamoci però che se la carta già presente sul campo di gioco presenta dei danni, questi verranno automaticamente trasmessi anche alla carta shiftata. Inoltre, in caso di rimozione o di rimbalzo, entrambe le carte ne subiranno l'effetto. Il termine di vantaggio carte si riferisce al confronto tra il proprio numero di carte in mano e quello dell'avversario, mentre un Draw Engine è un meccanismo che consente di pescare più carte oltre alla prima carta pescata dall'inizio del turno. Avere più carte in mano rispetto all'avversario ci permette di poter valutare più strategie differenti in base alla situazione di gioco, cercando la migliore possibile per vincere la partita. Per questo motivo il vantaggio carte è una delle meccaniche più forti di molti TCG. Ecco alcuni esempi di Draw Engine in grado di fare vantaggio carte. La card selection si riferisce alla selezione di determinate carte dalla cima del nostro mazzo. Questo tipo di filtratura del mazzo ci permette di selezionare con più precisione le carte di cui abbiamo bisogno in base alla situazione di gioco. 2x1 è un termine che si riferisce a una mossa o azione che permette di ottenere due benefici o risorse con una singola giocata. Un esempio di 2x1 è la combinazione di cura più pescata che offre Rapunzel Gifted with Healing. Questa carta infatti una volta entrata sul campo di gioco può curare fino a tre danni da un altro personaggio sotto il nostro controllo e, per lo stesso effetto, ci permette di pescare dal mazzo un numero uguale di carte. Consideriamo per esempio il caso in cui sul campo di gioco ci sia Tinkerbell Giant Fury con tre danni. Nel momento in cui giochiamo Rapunzel potremo scegliere un personaggio danneggiato e rimuovere fino a tre danni da esso. Corando Tinkerbell di tre danni, quindi, andremo a pescare tre carte aggiuntive dal mazzo. Onboard Wipe è un'azione che rimuove tutte le carte o tutti i personaggi dal campo di gioco. È spesso usata per ripartire da zero in una situazione di svantaggio rispetto all'avversario. Le carte che creano questo effetto, ad esempio Be Prepared, vengono solitamente identificate anche con il nome di Vratte. Rimbalzare è il nome usato per indicare un effetto che fa tornare in mano a un determinato giocatore una carta dal campo di gioco. Esempi di effetti di bounce sono quelli di carte come Mother No Beast e Genie On The Job. Macinare è l'azione che compie un giocatore quando mette una carta dalla cima del mazzo nella sua pila degli scarti. In alcuni giochi l'effetto Mill, che prende il nome da un altro amatissimo TCG, Magic The Gathering, diventa una vera e propria strategia con il proprio spazio all'interno dei meta. I mazzi Mill non si interessano ai punti Lore, ma cercano di svuotare completamente il mazzo avversario vincendo così la partita. Nel primo capitolo di Lore Kana non troviamo carte con questo specifico effetto, ma How All New World, riducendo i mazzi di 7 carte attraverso l'effetto Scarto Pesco, è la carta che più si avvicina ad una carta Mill. Con Lore Race si intende la velocità di quest per vincere una partita, minore o maggiore, rispetto a quella dell'avversario. Creando una strategia che ci permetta di calcolare a dovere i punti Lore che otterremo nell'arco di un numero di turni, è possibile capire con quanta rapidità e a quale turno saremo in grado di vincere la partita utilizzando tutte le risorse a nostra disposizione e considerando i personaggi che potrebbero venire esiliati durante la race. È buona norma per ogni accannito giocatore di mazzi aggro leggere al meglio questi dati di gioco per poter chiudere la partita il più rapidamente possibile. Un giocatore di mazzi control, d'altro canto, dovrà cercare di rallentare e gestire la race dei mazzi aggro avversari tramite l'utilizzo di rimozioni o vratte, riducendo i suoi punti Lore con carte come Aladin, Eroi Kotlo e Ursula, Power Hungry. Quindi grazie ad ogni termine che abbiamo appena visto, riuscirete a seguire ogni aspetto del match che affronterete o magari al quale assisterete decodificando idiomi che altrimenti risulterebbero sconosciuti, tagliandovi fuori da un eventuale confronto costruttivo con altri illuminari lì presenti. Prima di concludere volevo ringraziare ancora una volta i signori di Fantasia Store ed Andrea Cavallari del team Lorcana League Italia per aver fornito l'articolo sul quale questo video si è basato. E a proposito di ciò, in descrizione vi lascerò il link al blog dove potrete recuperare quest'ultimo e molte altre informazioni utili sul magico mondo del TCG targato Disney. Preparate i vostri deck e buttatevi a capofitto nell'avventura, illuminatori. Lorcana con le sue dinamiche è pronta ad accogliervi tra quest, canzoni da cantare e sfide all'ultimo punto lore che grazie anche al bagaglio fornitovi quest'oggi vi vedrà sempre più protagonisti assoluti di battaglie piene di colpi di scena. E voi eravate già a conoscenza delle terminologie trattate in questo contenuto? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.